Cari amici sportivi e soprattutto tifosi del Napoli, ma anche e soprattutto per chi ama il calcio. È appena finita Juve Leone, quindi una grande vittoria per il calcio e una grande vittoria per gli sportivi. E non possiamo fare altro che festeggiare in questo modo. Grazie a tutti. Alla prossima, pure chi è rimasto in canna.